Dobbiamo un po' tutti a un giovane italo-irlandese, visionario ma tenace, l'allora poco più che il ragazzo Guglielmo Marconi, se oggi disponiamo di dispositivi che permettono di comunicare informazioni di varia natura a distanza e senza bisogno di fili, la radio, la televisione, i telefoni cellulari, il fax, internet e così via dicendo. La straordinaria importanza e la portata rivoluzionaria dell'attività inventiva di Marconi sono da attribuire certamente alla grande capacità di utilizzare da parte del Marconi stesso le conoscenze e la tecnologia note a quel tempo, siamo a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, per di più implementandole, ma soprattutto sono da attribuire alla sua geniale testardaggine di credere in comportamenti della natura che i maggiori fisici, sia teorici che sperimentali, ritenevano non potessero aver luogo. Augusto Righi, senz'altro il più grande fisico italiano del periodo, candidato per ben 16 volte al premio Nobel, implementatore degli studi di Hertz sulle onde elettromagnetiche e nonché maestro informale di Marconi, il quale frequentava le sue lezioni e anche il laboratorio sperimentale, ebbe a dire, a proposito delle idee del giovane inventore sulla propagazione delle onde elettromagnetiche, che queste ultime non potevano propagarsi, se non per brevissime distanze e che comunque sarebbero state fermate da ostacoli. Ma Marconi, inviando un segnale dal giardino di Cassasua, Villa Grifone a Pontecchio, nei pressi di Bologna, ed essendo stato questo segnale ricevuto da una postazione situata a due chilometri di distanza e dietro la collina dei Celestini, confuta l'affermazione di Augusto Righi. Pochi anni più tardi, nel 1901, uno dei più grandi matematici e fisici teorici del mondo, il francese Henri Poincaré, a seguito di suoi calcoli precisi, ma effettuati su presupposti teorici consolidati, sostiene che le onde elettromagnetiche non possono che propagarsi linea retta, e quindi, non potendo seguire la curvatura della superficie terrestre, non possono essere ricevute a più di 300 chilometri di distanza. Ma Marconi invia un segnale da un trasmettitore ubicato in Cornovaglia che viene ricevuto da una stazione ricevente situata sull'isola di Terranova, a oltre 3.500 chilometri di distanza. E molti anni più tardi, il 26 marzo 1930, addirittura fa accendere le luci del municipio di Sydney inviando un segnale dal suo panfilo Electra, ormeggiato nel porto di Genova. Dunque, uno spirito inquieto, quello di Marconi, ma mordace e coerente, che, sfidando le conoscenze fisiche consolidate, ha ottenuto, ovviamente anche con fortuna, risultati eccezionali, che hanno aperto enormi sviluppi intenzionali e soprattutto inintenzionali, come accade sempre in occasione di scoperte e invenzioni di portata rivoluzionaria.